Ciao ragazzi! Oggi ti propongo una riflessione tratta dal libro della vita di Krishnamurti, esattamente a tema, cioè la riflessione del 28 settembre. Al di là del tempo La mente condizionata non è capace di scoprire quello che è al di là del tempo. E la mente, come noi la conosciamo, è condizionata dal passato che attraversando il presente si trasforma in futuro. La mente condizionata dal passato è in continuo conflitto, è tormentata, ha paura e nella sua incertezza cerca qualcosa che è al di là del tempo. È questo che tutti noi facciamo in un modo o nell'altro. Ma come fa una mente che è il risultato del tempo a realizzare l'Eterno? La dimora della vostra fede, dei vostri possedimenti, dei vostri attaccamenti e di tutti quei pensieri che vi danno conforto è costantemente in disordine, in subbuglio. Tuttavia la mente continua a cercare sicurezza e si scatena quindi un conflitto tra quello che voi volete e quello che la vita vi chiede. Ognuno di noi è, di fatto, in questa situazione. Non so neanche se vi interessa affrontare questo problema. Sembra che la maggior parte di noi sia completamente assorbita dai problemi dell'esistenza di ogni giorno. L'unica cosa che ci importa è trovare una risposta immediata ai nostri problemi quotidiani. Ma presto o tardi ci accorgiamo che queste risposte immediate non ci soddisfano perché qualsiasi problema contiene in sé la soluzione e solo se riusciamo a capirlo fino in fondo, in tutta la sua complessità, il problema si risolve per sempre e scompare. Fuori e dentro, il viaggio continua. Namaste Grazie a tutti. 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 Grazie.